Dopo rifrequentando riesci a cogliere anche tante cose, fai più un lavoro di fino, intanto lo applichi, intanto lavori, come rifrequenti fai proprio un lavoro di fino. Ceselli, l'esempio che vi ho fatto, che prima prendo la pietra, voi siete arrivati come una pietrona, abbiamo fatto un po' le forme, ma ci sono le forme con ancora un pochino di robe sopra, bisogna un pochino cesellare, renderla un pochino più armoniosa la figura.